Bene, sono le dieci, possiamo cominciare. Innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti, probabilmente qualcun altro arriverà fra qualche minuto. Ringrazio i partecipanti di essere qui in questo momento con noi a partecipare a questo webinar. Il secondo webinar di quelli che sono presenti in calendario che potete trovare sul sito di Philips nella sezione dedicata di Philips Lighting University. Oggi parleremo di LED nell'architettura. Colgo l'occasione per farvi vedere quali saranno i prossimi argomenti delle prossime puntate. A giugno, il 18 giugno, ci troveremo per parlare di luce e aree commerciali col tema dell'esperienza d'acquisto nei negozi. Il 16 luglio invece affronteremo il tema dell'illuminazione dei centri urbani, parlando di luce e ambiente. E a settembre, è molto in là, tutti stiamo desiderando le ferie, però a settembre parleremo di luce e alberghi, come rendere il mondo degli alberghi sempre più dinamico e interattivo. Tecnicamente, se avete bisogno di fare qualche domanda, potete trovare tutte nella sezione della chat, potete trovare lo spazio dove scrivere la chat, ci saranno i miei colleghi che poi vi rispondono. Eventualmente, poi ci interromperemo se vediamo che l'argomento è di interesse per tutti. Nello spazio sotto, poi potete anche rispondere o meno alle domande. Di cosa parleremo oggi? Ecco, possiamo cominciare a parlare. Oggi noi affronteremo il tema dei LED nell'ambito dell'architettura e vedremo almeno quattro tematiche. La prima è una breve sintesi di quello che sta succedendo oggi nel mondo dell'illuminazione. Poi entreremo un po' più nel dettaglio cercando di capire quali sono le opportunità che ci offrono i LED per una corretta progettazione degli impianti di illuminazione. Vedremo anche le novità, le tendenze dal punto di vista applicativo che introducono i LED. E infine affronteremo velocemente una carellata di quelle che sono le prospettive per i prossimi anni, sia dal punto di vista dell'applicazione che dal punto di vista tecnologico. Quando parliamo di LED mi piace cominciare con questa fotografia che oltre a essere un po' di pubblicità, vedete Marco Filips, ma il concetto che voglio riprodurre con questa fotografia è quello che il mondo della luce si sta trasformando molto velocemente. Questa lampada si chiama Hue e probabilmente ne avrete già sentito parlare, è una lampada che è connessa, cioè tramite le reti wifi è possibile controllarla con smartphone, tablet. Le lampade sono collegate tra loro, sono sincronizzate, possono essere regolate sia nelle tonalità di bianco che nei colori. E questo dà proprio l'idea del grande cambiamento che stiamo affrontando nel mondo della luce. Si parla di un'evoluzione storica, un passo fondamentale nel mondo della luce. Il mondo della luce che ha sempre visto l'uomo abituato alla luce naturale e alla luce delle candele, del fuoco, fino a poco più di un secolo fa, quando è stata introdotta l'illuminazione a energia elettrica. Ebbene, questo mondo è stato stabile, non si è mosso per più di un secolo, fino a quando agli inizi degli anni 2000, il LED ha cominciato ad entrare in modo molto prepotente nel mondo dell'illuminazione. E questo ha introdotto, è stata l'introduzione dell'illuminazione, della digitale nel mondo della luce. Vedete qui una rapida carrellata di quello che è successo in tutti i mondi che ci circondano, quelli dell'audio, video, della comunicazione. E vedete le grandi rivoluzioni che sono state introdotte grazie all'illuminazione digitale. Oggi, o meglio da qualche anno, stiamo vivendo questa rivoluzione nel mondo della luce, grazie all'introduzione dei LED. In particolare del LED bianco, che consente veramente di sostituire gran parte delle sorgenti di illuminazione con la nuova tecnologia. La nuova tecnologia che, anche secondo fonti molto accreditate, come può essere il Dipartimento di Energia degli Stati Uniti, nell'arco di pochi anni, relativamente pochi anni, diventerà praticamente l'unica sorgente di illuminazione disponibile, utilizzabile, chiamiamola così, proprio per le sue caratteristiche intrinseche. Prima di parlare nello specifico dell'illuminazione a LED nell'architettura, e per chiarire alcuni concetti, e quindi per chiarire cosa possono fare i LED, vi faccio vedere soltanto due depositive dal punto di vista tecnico che riescono a dare una fotografia completa di quello che sta succedendo oggi nel mondo dell'illuminazione. Innanzitutto, quando parliamo di illuminazione a LED, abbiamo tutta una serie di indubbi benefici introdotti a questa nuova tecnologia. In primis la durata, sono sorgenti che durano moltissimo, la miniaturizzazione, il rispetto ambientale inteso in tutto il ciclo produttivo, la robustezza della sorgente stessa, e la facilità con cui è possibile controllarla. Ci sono poi ancora delle zone intermedie, quindi evidenziate con questo colore grigio, su cui bisogna restare particolare attenzione, nel senso che non tutti i LED o non tutte le soluzioni a LED sono ottimali da questo punto di vista. E quindi quando si parla di efficienza energetica, di quantità di luce messa a flusso luminoso, di qualità della luce bianca, dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, delle soluzioni, dei prodotti giusti. Infine c'è tutta un'area intermedia in cui abbiamo a che fare con delle situazioni non direi problematiche, quanto piuttosto da valutare di volta in volta e che ci possono fornire delle soluzioni, delle complessità. Ecco, chiamiamola così, delle complessità, soprattutto quando si utilizzano e si realizzano i prodotti. Uno di questi lo saprete ormai tutti è la gestione del calore, l'altro è l'investimento iniziale che pur abbassandosi notevolmente in questi anni rimane un elemento, una barriera all'introduzione in modo diffuso dei LED nel mondo dell'illuminazione. E poi quel gap dal punto di vista normativo che rende non sempre chiaro quali sono le caratteristiche degli apparecchi LED, come sceglierli, ieri e vicendi. Dal punto di vista della progettazione degli apparecchi a LED è chiaro che anche da questo punto di vista sta cambiando tutto. Sta cambiando tutto in che senso? Nel senso che oggi chi costruisce gli apparecchi di illuminazione deve essere in grado di gestire pienamente questi quattro temi fondamentali, che sono una capacità di progettazione elettronica, una capacità di gestione termica e una estrema abilità nella gestione fotometrica della luce. Unitamente ancora, questo rimane un parametro fisso, la capacità di costruire meccanicamente i corpi illuminati. Ecco, detto questo come introduzione, adesso entriamo nel dettaglio. Entriamo nel dettaglio e ci accorgiamo che quando pensiamo alla progettazione ci rendiamo conto che oggi abbiamo tantissimi strumenti nuovi a disposizione, ma probabilmente non sappiamo ancora come usarli pienamente. Quindi non siamo ancora in grado di farli suonare come un'orchestra. È indubbio però che chi progetta un impianto di illuminazione oggi, grazie alle nuove tecnologie, ed è questo il tema CLUD che affronteremo in questi tre quarti d'ora insieme, è che abbiamo la capacità, abbiamo la possibilità oggi di dare nuovi significati alla luce. Nel senso che possiamo usare in modo molto diverso e molto più efficace l'illuminazione, anche dal punto di vista progettuale. E questo ci introduce nel secondo argomento della giornata che è l'utilizzo dei LED e come progettare l'illuminazione a LED. In questa fase noi affronteremo qualche tema, è chiaro che visti i tempi, visti le modalità con cui ci incontriamo con questi webinar, non è possibile entrare in dettaglio o fare delle considerazioni particolari, per questo poi vi rimando i corsi che facciamo sempre in aula con Philips Lighting University, e quindi lì c'è molto più tempo a disposizione e possiamo affrontare i temi in modo più dettagliato. Dal punto di vista tecnico è chiaro quello che ci danno di nuovo la tecnologia LED, abbiamo nuove forme degli apparecchi di illuminazione, abbiamo un'efficienza energetica molto più disponibile, questo specifico non è che prima con le sorgenti tradizionali non avessimo la capacità di raggiungere questi livelli di efficienza energetica, è che oggi i LED me la rendono disponibile per molte più applicazioni. Abbiamo delle sorgenti piccole e quindi miniaturizzate e abbiamo una maggior durata nel tempo. Queste sono le novità dal punto di vista tecnico, però sapete benissimo che un conto è la soluzione, il prodotto, invece ben diverso è il concept, il concetto dell'impianto di illuminazione del progetto. Tenendo conto che come diceva Corbusier, la luce gioca un ruolo fondamentale nel farci percepire ciò che andiamo a illuminare. E quindi se volessimo sintetizzare i grandi benefici, le novità che arrivano oggi dal punto di vista progettuale, grazie all'introduzione di questa nuova tecnologia, noi possiamo individuare quattro grandi tematiche. Il primo è la valorizzazione dell'architettura, che più che mai oggi con i LED è possibile realizzare. Il secondo tema è la possibilità di usare la luce per effetti scenografici. Il terzo grande tema è, grazie alla miniaturizzazione, noi possiamo integrare la sorgente nel contesto che andiamo a illuminare. E quindi questo è un grande vantaggio, una grande capacità che mettiamo a disposizione del progettista. E infine questa, chiamiamola così, discrezione della sorgente di illuminazione, che non diventa più un elemento pesante, visibile all'interno dell'impianto di illuminazione, ma che con discrezione tende a sparire facendo luce. Ecco, questi sono i temi che vedremo poi un po' più nel dettaglio. Così, giusto per animare un po' questo momento di questo incontro, questo webinar, vi chiedo di votare, quindi dare il vostro parere ed identificare quale di questi quattro temi, secondo voi, sono quelli che vi danno più novità, quelli che sono più interessanti, secondo voi, nel vostro settore specifico di progettazione. Quindi alla vostra destra potete votare. E poi così vediamo quello che riteniamo la maggioranza abbia considerato come l'elemento fondamentale. È chiaro che dipende tantissimo da dove andiamo a utilizzare e qual è l'ambito progettuale. L'illuminazione per ambienti interni avrà delle esigenze diverse di quelle di ambienti esterni. Però se ne vado a guardare le risposte che avete dato, vediamo che la gran parte di voi ha votato come elemento dominante l'integrazione della sorgente, data proprio da questa miniaturizzazione che me la rende integrabile nell'energia interna. Questo è un elemento interessante. Ho visto che ci sono molti che non hanno votato, probabilmente non avete fatto in tempo, più avanti ci sarà un altro sondaggio, avete 45 secondi a disposizione per votare e dovete selezionare il valore nella casellina che trovate al vostro fianco, alla vostra destra. Ecco, quando affrontiamo il tema della progettazione, poi in realtà uno potrebbe dire ma guarda, i LED non è che hanno introdotto qualcosa veramente di rivoluzionario, perché l'illuminazione delle tende ad esempio veniva già fatta nel passato, così come l'illuminazione delle nicchie, delle gole, quello che si chiama cove lighting, così come l'illuminazione a modo di segnalazione, come elemento di comunicazione. E qui vedete tutta una serie di immagini che vi fanno vedere che questi temi erano già ben chiari negli anni, già dagli anni 30, 40, 60, come l'illuminazione delle insegne, piuttosto che l'illuminazione dei monumenti. Per esempio qui è interessante vedere un progetto dell'illuminazione della mole a Torino, fatta nel 61 da Guido Chiarelli e alla vostra destra invece vedete qual è stata la soluzione di illuminazione realizzata in occasione di 150 anni dell'Unità d'Italia. Cos'è allora la domanda che viene spontanea anche guardando le fotografie successive? Qual è l'elemento veramente innovativo dal punto di vista progettuale che ci dà la tecnologia LED? Beh io potrei semplificare dicendo la capacità di rendere semplice e praticabile i concetti di illuminazione estremi che potevano già essere realizzati nel passato. Nel passato le fotografie che vi ho fatto vedere sono casi un po' estremi, emblematici, sperimentali, all'avanguardia. Oggi i LED rendono possibile anche in piccola scala, in piccoli progetti a tutti i progettisti realizzare questi concetti in modo molto semplice e anche con investimenti molto più contenuti e limitati rispetto al passato. E' chiaro che cambia anche il design del prodotto. Qui vedete una carellata di tutte le forme strane e nuove che le lampade hanno assunto in questi anni. E allora può convenire affrontare il tema anche degli archetipi che introducono i LED nel mondo dell'illuminazione. E se prendiamo come punto di riferimento la valutazione di Kandinsky, noi possiamo dire che gli archetipi dei LED possono essere assimilati a quattro grandi macro-categorie. Abbiamo tutti gli elementi pulsiformi, abbiamo le linee di luce rigide piuttosto che flessibile, quindi 3D, abbiamo i pannelli e abbiamo le maglie o le superfici tridimensionali. Qual è il vantaggio rispetto a prima dell'archetipo LED punto? Con i LED noi abbiamo la possibilità di avere dei punti luminosi che tendono a sparire. Perché? Perché grazie alla miniaturizzazione riusciamo a fare degli apparecchi di illuminazione molto più compatti. Questo ci dà una maggiore flessibilità progettuale. Dal punto di vista dei corpi illuminanti ci consente di creare nuove forme, forme uniche, perché non sono più legate alla forma, alle dimensioni, all'ingombro della lampada a cui eravamo abituati. E possiamo fare anche degli effetti di illuminazione particolari, svincolandoci da quello che è l'obbligo d'ingombro della forma, delle dimensioni del corpo illuminante. Vi farò vedere una serie di fotografie che provano a spiegare questi concetti. L'illuminazione puntiforme fatta con degli spot non ha nulla di diverso dal punto di vista concettuale, se non che ci consente di far sparire corpo illuminante e soprattutto riesce a concentrare i fasci di luce in modo molto più mirato, molto più sofisticato, per creare degli effetti di illuminazione più particolari. Qui vedete ad esempio un altro impianto di illuminazione dove si può notare come il corpo illuminante sia molto più discreto di quello che poteva essere prima e come si riescano ad ottenere degli effetti di illuminazione mirati, diversi, molto più concentrati ed efficaci. Quindi possiamo avere dei contrasti anche in zone relativamente vicine, cosa che prima non potevamo ottenere perché la luce era molto più diffusa e meno controllata. Quando parliamo invece di linee, i led secondo me qui hanno una marcia in più rispetto ai sorgenti tradizionali perché ci consentono di avere un effetto radente, wall washing o grazing che fa vedere la natura tipica del materiale che si va a lavare con la luce, molto più impattante ed efficace di prima. Con il vantaggio poi di avere un design compasso corpo illuminante della sorgente stessa e quindi una maggiore capacità dal punto di vista progettuale di nascondere il corpo illuminante e quindi di integrarlo nell'architettura. Possiamo parlare di illuminazione radente attraverso le gole con la luce bianca, come questa chiesa, e la grande differenza rispetto alle velette fatte con le lampade fluorescenti, ad esempio, è la capacità di pennellare la luce senza farla fuoriuscire da dove vogliamo che vada a finire. Qui lo possiamo vedere in questo elemento, vedete come l'illuminazione della volta non fa uscire la luce sugli altri elementi architettonici e quindi dà la capacità al progettista di evidenziare in modo molto chiaro alcuni elementi architettonici rispetto ad altri. Oppure possiamo usarlo senza grandi investimenti iniziali con un estremo risparmio energetico, quindi con un consumo energetico molto ridotto, anche per grandi superfici e effetti più scenografici. Possiamo poi integrarlo nell'arredamento, come in questi negozi dove l'elemento luminoso tende a sparire nascosto negli scaffali, o possiamo creare, grazie alla retroilluminazione colorata e dinamica su cui poi parleremo, dedicheremo un po' di tempo più avanti, per creare degli effetti molto gradevoli. E qui il colore, potete notarlo, riesce ad essere contenuto solo all'elemento che voglio evidenziare, cosa che prima non riuscivo a fare, se voi pensate a quello che potevamo fare prima con le lampade fluorescenti colorate, ci si accorge che il rischio era quello di andare a colorare anche altri elementi, anche gli oggetti esposti in questo negozio, ad esempio. Invece qui vediamo bene come il colore è contenuto all'aspetto, alla parte di luminanza di questi pannelli, mentre non rischiamo di andare a colorare i prodotti che sono esposti, che sono illuminati con luce bianca. Quando parliamo poi di pannelli, qui entriamo tutto nel mondo dei display, delle grandi superfici, degli effetti puramente scenografici, di quinte luminose e via dicendo. Non mi soffermo tanto, se no facendovi vedere solo questa fotografia, dove si mostra che questi effetti che possiamo pensare estremi, noi in realtà li possiamo applicare anche ad applicazioni più contenute, come è stato fatto ad esempio in questo ospedale, per dare un po' più di movimento e rendere l'ambiente più confortevole. Oppure infine, quarto archetipo, quando si parla di superfici flessibili, qui abbiamo le maglie luminose create da tanti punti o addirittura superfici completamente, veramente flessibili. Qual è la chiave, l'utilizzo pratico di queste nuove forme? È quello di creare comunicazione, comunicazione con dei display su grandi superfici, piuttosto che comunicazione su elementi più contenuti all'interno di aree chiuse, o ancora utilizzare le maglie all'interno degli ambienti per creare delle dinamicità che possono essere interessanti e dare più movimento a degli elementi architettonici di per sé poveri. Le superfici flessibili poi sono una grande incognita, diciamo così, progettuale, di dove andremo a finire in termini di possibilità, se poi andiamo a pensarla all'integrazione ad esempio sulle superfici realmente flessibili, quindi i tessuti ad esempio. Qui vedete delle magliette che contengono dei LED all'interno, o vi faccio vedere velocemente come nel mondo dello spettacolo si sono già utilizzati LED e OLED all'interno dell'abbigliamento delle star. Quindi vedete che la capacità di inserirsi in prospettive di illuminazione completamente nuove dei LED è veramente incredibile. Detto questo, possiamo affrontare adesso alcune tematiche un po' più pratiche e vorrei farvi vedere qualche tendenza applicativa di quello che abbiamo visto fino adesso dal punto di vista concettuale. Prima di partire però vorrei che sia chiaro questo concetto. Oggi più che mai la luce sta diventando uno strumento di marketing veramente potente ed efficace. Perché? Perché la luce è uno degli strumenti di comunicazione più potenti che possiamo avere a disposizione. Quindi se lo sappiamo usare in modo corretto possiamo avere quella marcia in più dal punto di vista progettuale per realizzare delle soluzioni di illuminazione veramente uniche. Se invece torniamo a guardare quelli che sono gli aspetti applicativi vedrete tutta una serie di tematiche a partire dalla luce colorata. La luce colorata probabilmente l'ho messo per prima proprio per quello perché è stato uno dei primi ambiti progettuali che i LED hanno fatto esplodere nel mondo dell'illuminazione. Perché i LED facilmente potevano essere controllati, facilmente facevano luce colorata, non c'era bisogno di tanto flusso emesso per avere l'illuminamento, bastava la luminanza. Qual è la funzione oggi pratica, non troppo esagerata, che possiamo dare alla luce colorata? Innanzitutto la capacità di catturare l'attenzione, la possiamo utilizzare come strumento di identificazione, di riconoscimento, possiamo usarla e qui devo dire che ancora non abbiamo raggiunto dei livelli adeguati di utilizzo della luce colorata, come strumento per accentuare le forme architettoniche degli oggetti o la presenza e il focus su determinati oggetti. Infine può essere utilizzata come luce di orientamento, di guida all'interno degli ambienti. Non mi soffermo con molti progetti, vi faccio vedere un approccio della luce colorata in una vetrina, ad esempio come è stato fatto qui alla Sveglia nei Stati Uniti. Perché non mi soffermo molto su questo tema, la luce colorata? Perché avete già probabilmente avuto esperienza, è un tema su cui bisognerebbe approfondire gli aspetti in modo un po' più sofisticato, tenendo conto anche di quali sono gli effetti psicologici dei colori, quindi passiamo, andiamo velocemente. Io invece mi soffermerei su un altro aspetto interessante, che io ho qui chiamato come la nuova era del bianco. I LED, grazie alla loro capacità trasversale di coprire praticamente tutte le temperature di colore, hanno dato la possibilità di utilizzare per molti ambiti dove prima non potevamo, la luce bianca con la temperatura di colore giusta, soprattutto questo si è verificato nell'illuminazione per esterni, dove prima eravamo vincolati alla tipologia di sorgente utilizzata, gli udori metallici piuttosto che sodio bassa o alta pressione e oggi con i LED riusciamo a portare la flessibilità della temperatura di colore anche in questi ambienti. Oppure la possiamo usare in modo molto più sofisticato e delicato anche all'interno di ambienti chiusi, creando dei contrasti non basati sul colore, ma contrasti basati sulla tonalità della luce, quindi la temperatura di colore del bianco, che mi creano effetti come questi. È poi interessante affrontare un altro tema particolarmente delicato, che è l'utilizzo della luce dinamica. Perché dico che questo è un tema delicato? È un tema delicato perché il rischio dell'utilizzo della luce dinamica è quello di un eccesso di spettacolarizzazione dell'impianto, quello che io chiamo l'effetto discoteca, quindi bisogna stare molto attenti nel gestire la dinamicità per evitare che l'effetto sia un po' troppo kitsch. Dove e perché invece la luce dinamica ha delle forti potenzialità? Innanzitutto perché crea un ambiente d'atmosfera? Perché può essere utilizzato per dare un messaggio di avanguardia, di tendenza? Perché ha delle capacità di stimolo sulle persone che vivono in un ambiente fortissime, può valorizzare il marchio dell'ambiente che vado ad illuminare, valorizzare il contesto, è facilmente controllabile con sistemi di controllo gestendo l'interno interattività con i partecipanti, non so, penso a una vetrina che cambia colore a seconda della presenza di persone davanti ad alcuni elementi esposti piuttosto che. E poi, ultimo tema di attenzione, la luce dinamica non dobbiamo confonderla come la vediamo in questa fotografia solo in termini di dinamicità di colore, ma oggi una delle potenzialità enormi che mi danno in lei, beh, l'utilizzo della dinamicità con i bianchi. Ecco, adesso facciamo un altro sondaggio, vediamo quali possono essere le potenzialità, gli aspetti più interessanti che la luce dinamica sempre nel vostro settore di intenzione può dare. Ecco, potete votare, avete le quattro opzioni alla vostra destra, quale di queste quattro ritenete la più importante? Se la luce dinamica per voi è essenzialmente capacità di creare atmosfera, piuttosto che stimolare, piuttosto che la possibilità di creare ambienti interattivi con l'ambiente, o ancora la possibilità di scegliere la temperatura di colore di luce bianca più appropriata al materiale che andiamo a illuminare. Ecco, anche qui ovviamente dipende solo, dipende anche e soprattutto dal contesto progettuale su cui stiamo lavorando. Ecco, intanto avete fatto le vostre scelte, dovrebbero a questo punto essere quasi pronti i risultati. È chiaro che questi sondaggi che facciamo qui tra i partecipanti, e oggi siamo circa 60 persone che stanno partecipando a questo webinar hanno un valore assolutamente non statistico, ma servono solo a darci un'idea di quello che i colleghi che abbiamo di fianco possono valutare. Vedremo i risultati. Ecco, diciamo che se la giocano si ha B e D a pari merito, con una dominanza dell'ultima opzione che è la scelta della temperatura di colore più appropriata. In effetti questo potrebbe essere l'approccio più semplice all'illuminazione dinamica che non rischia di farci cadere in situazioni difficili a gestire. Vi faccio vedere ancora qualche immagine di come la luce dinamica può essere utilizzata, ad esempio qui nella stazione centrale, quando c'è stata l'ingolorazione dell'alta velocità, per creare attenzione, focus sull'elemento che andavamo a minimare. Vi dico soltanto che come regola, quando si progetta la luce dinamica, bisognerebbe seguire questa struttura, questi tre passi in sequenza. La parte più difficile, ma è quella che va realizzata, pensata prima, è l'effetto. Non partiamo dalle possibilità che ci dà il corpo illuminante o il sistema di controllo, partiamo assolutamente da un concept. Qual è l'effetto dinamico che io voglio realizzare? Poi, in base a quello che vogliamo, scegliamo l'apparecchio di illuminazione e, in ultima battuta, il sistema di controllo di MX, DALE, piuttosto che più appropriato per realizzare l'effetto che ho in mente. Ma il primo è assolutamente l'aspetto più importante a cui dobbiamo prestare particolarmente attenzione. E qui vedete altre applicazioni, queste molto appariscenti, ma che hanno l'obiettivo di dare, di colpire la persona che entra in questa reception e dare un'identità di marchio, piuttosto che in quest'albergo lasciare a disposizione dell'utilizzatore la capacità di controllare, di creare delle scenografie a seconda delle proprie necessità, dei propri gusti, degli momenti in cui va a vivere il contesto. La stessa capacità di controllo noi la possiamo avere poi in ambienti domestici, probabilmente i corpi illuminanti, gli apparecchi Living Colors che consentono con un telecomando facilmente di creare atmosfere come quelle che vedete in queste fotografie, probabilmente le conoscete già. Diventa, e qui mi riallaccio al sondaggio che abbiamo fatto prima, diventa importante e con delle potenzialità ancora più elevate l'utilizzo invece della dinamicità in ambito dei bianchi. Vedete questo soffitto illuminato con una temperatura di colore più calda a sinistra e una più fredda a destra. A livello di percezione ed inconscio l'utilizzo delle temperature di colore diverso ha un impatto notevole e soprattutto non è così pesante, così appariscente come può essere la luce colorata, nel senso che mentre cambia la luce colorata io sono molto attento e stimolato, mi accorgo che sta succedendo qualcosa, quando uso i bianchi lavoro più a livello inconscio, quindi l'effetto del cambiamento della tonalità di colore è molto più a livello inconscio. Vi vedete un'applicazione in ambito ospedaliero dove cambiare, passare da una luce fredda che aumenta la capacità di attenzione e di guarigione perché i dioritmi aumentano, vengono accelerati e quindi anche tutte le funzioni biologiche. Possiamo poi passare a atmosfere più tranquille, più rilassanti che smorzano gli effetti di ansia o di agitazione che possiamo avere quando ci troviamo in questi contesti. Nel momento in cui andiamo invece a parlare di illuminazione dinamica negli uffici, qui lavoriamo proprio su livelli di attenzione e di stimolo per cui utilizzare una luce fredda attiva la produzione del cortisolo che è l'elemento che viene utilizzato per stare svegli e attenti e quindi anche la produttività aumenta, però in alcuni ambiti come la fotografia sinistra in alcuni momenti della giornata può essere necessario un momento di relax per una maggiore condivisione, per una comunicazione che può essere più rilassata, più informale. Altro tema importante è l'integrazione dei LED, senza arrivare a estremi come quello che vedete adesso di integrazione nel vetro o nel tessuto, in realtà in ambito architettonico le potenzialità sono enormi. Qui vi faccio vedere una soluzione che si chiama Luminous Textile dove questi grandi pannelli realizzati coperti da tessuto che può essere di varie tinte, di varie forme e colori, viene retroilluminato e con la tecnologia LED può essere programmato per creare scenografie molto più interessanti come questa, quindi un'intera parete su cui vengono proiettate, si crea movimento, vengono proiettate delle immagini ovviamente non ad alta risoluzione o contesti come questo in cui si accende il negozio, si accende l'ambiente, il ristorante come in questo caso e si modifica in tempo reale il valore che si dà all'utilizzo di questo ambiente. Oppure lo possiamo usare in modo più spettacolare come in questo aeroporto dove la luce di manica viene utilizzata per contrastare gli effetti di noia, di appiattimento tipici di questi ambienti dove si fanno delle attese lingue. L'integrazione poi mi consente di far sparire il corpo illuminante e rendere la luce un elemento fondamentale della struttura architettonica sia in ambienti interni come in questo caso, sia in ambienti esterni come il ponte sul Bosporo in Turchia, dove l'utilizzo della luce fa parte integrante della struttura e valorizza un elemento che di per sé può creare disturbo nell'ambiente. Per arrivare poi agli estremi della comunicazione fatta grazie ai colori, ad esempio l'Empire State Building è stato recentemente rifatto con un'illuminazione dinamica che ha la capacità di essere programmata e venduta all'utente. Ad esempio se voi andate sul sito dell'Empire State Building potete prenotare 5-10 minuti di illuminazione dedicata, realizzata da voi in un determinato momento nel calendario e utilizzare questa personalizzazione della luce colorata come regalo. E quindi vi viene mandata una cartolina, potete mandare la cartolina per l'anniversario a vostra moglie, portarla a New York e far cambiare la luce come volete voi proprio in quel determinato momento. Altro aspetto interessante che ci dà i lab è l'illuminazione degli elementi naturali che vanno sia a coprire quegli aspetti di sviluppo degli elementi vegetali ma anche di valorizzazione degli elementi naturali. Allora un tema è quello di utilizzare la luce in ambienti interni ad esempio per non far soffrire le piante quando si parla dei giardini verticali che si trovano sempre di più in negozi, ambienti interni, reception di alberghi, ma anche per l'illuminazione esterna a scopo decorativo. Perché il LED più importante? Perché mi consente di sparire nel contesto naturale e di creare degli effetti scenografici anche grazie a un fascio molto concentrato, molto preciso, particolari. Come in questa cascata dove l'utilizzo di una luce molto controllata mi fa nascere in questa fontana un ambiente molto più dinamico, interessante, intrigante. O ancora lo possiamo utilizzare in contesti naturali quando vogliamo valorizzare dei contesti, degli ambienti molto particolari come le grotte, come zone scoliere, come lungomare. Qui ancora i LED giocano un ruolo importante perché mi consentono di portare la tecnologia ad utilizzi molto semplici senza particolari complessità. E con questo ci stiamo avvicinando al termine del nostro webinar e vorrei velocemente affrontare qualche aspetti di prospettive future in ambito progettuale. E qui parlerò di due cose, da un lato un breve cenno a quello che possono fare gli OLED, che sono i cugini vicini dei LED, ma dall'altro anche a un'idea nuova di progettazione, di illuminazione che sono i concept. Ad esempio qui vedete una catena di negozi che si è proposta di riportare l'effetto dell'illuminazione anni 60 con questo slogan California Home, quindi il caldo, la luce calda, il cogliente del sole della California, all'interno dei negozi. E uno potrebbe dire, vabbè potrei farlo benissimo con altre soluzioni di illuminazione, certo potrei fare questi effetti caldi con luci alogene ad esempio, ma andrei di fronte a un impiego energetico eccessivo, un sovrariscaldamento dell'ambiente, quindi è un investimento maggiore in condizionamento. E rischierei di danneggiare anche i prodotti esposti o di non riuscire a creare delle scenografie così spinte, con dei fasci di luce così concentrati, che vanno molto vicino al prodotto illuminato, senza rischiare di rovinarlo. E quindi queste immagini servono a dire, guardate che oggi poi se vogliamo a lungo termine vedere quali saranno, potrebbero essere prospettive, il concept lighting sarà uno dei temi molto affrontati, con tutte le complessità che comporta quella di una gestione integrata. E finiamo quindi con gli OLED, sono i parenti più vicini dei LED, non sostituiranno mai i LED perché hanno delle caratteristiche diverse, sono superfici emittente ampie, con basse illuminante, hanno una luce omogenea e mi consentono di integrare, fare parte dell'arredamento come sorgente luminosa. Sia nel momento in cui si parla di elementi speculari, come può essere lo specchio, il box touch, parte della cucina che diventa sorgente di illuminazione, sia che parliamo della trasparenza, quindi le finestre che sono normalmente trasparenti quando sono spenti gli OLED e diventano, come vedete in questa fotografia, elementi luminosi nel momento in cui noi li accendiamo. Oggi gli OLED sono già utilizzati per applicazioni particolari, diciamo così più di illuminazione di design d'accento piuttosto che illuminazione dinamica o con effetti particolari come questo specchio che riconosce dove mi posiziono, non si spengono gli OLED in corrispondenza del viso, ma gli altri rimangono accesi per illuminarmi in modo corretto, in modo tridimensionale il viso. Ecco, siamo giunti al termine del nostro webinar e sì, lo so che i tempi sono stati stretti, abbiamo dovuto affrontare molti temi in modo veloce. Io spero comunque che gli spunti siano arrivati, ci siano stati parecchi spunti, avete visto un po' di fotografie, qualcosa su cui lavorare e da inserire nei prossimi progetti o nei progetti che state realizzando adesso. Vi invito poi, se avete bisogno, ad approfondire queste tematiche con i corsi, con gli altri strumenti che mettiamo a disposizione, di consultare i nostri specialisti tecnici che sono sul territorio, se volete delle consulenze particolari. E per chiudere direi, se oggi pensiamo alla progettazione architettonica, non possiamo fare a meno dei LED, dei LED come soluzione piuttosto che come prodotto. Dimentichiamoci del prodotto e focalizziamoci sulla soluzione, quello che vogliamo ottenere con i LED e poi andiamo a scegliere il prodotto di illuminazione. Ecco, con questo chiuso, se non ci sono particolari domande, vi chiedo solo al termine del seminario, quando abbandonate l'evento, di non chiudere il browser, ma di attendere che compaia il questionario di valutazione, dove vediamo quali sono, dove date la valutazione sul gradimento che avete avuto da questo seminario. Intanto sto leggendo se ci sono delle domande che possono interessare a tutti. Ecco, c'è una domanda di Sodani che dice, il freno dei LED sono ancora gli alti costi. Se i LED costassero come le fonti classiche, quest'ultime morirebbero senza alcun dubbio. Cosa ne pensate? Eh sì, è vero, assolutamente vero. Però, quello che dico è, quando andiamo a considerare l'investimento iniziale dei LED, dobbiamo affrontare l'analisi da un punto di vista complessivo, quindi tener conto anche della maggior durata delle sorgenti LED, del minore impatto dal punto di vista dei consumi dei LED. È chiaro che oggi la tecnologia è arrivata a un punto in cui questi sono i costi per sostenere produzione, gestione degli investimenti in ricerca e sviluppo, nonostante, e ve ne sarete accorti, che i prezzi dei prodotti LED stiano abbassandosi notevolmente. Però non fermatevi mai all'investimento iniziale, affrontate il progetto nel complesso. E poi chiudo, giusto per fare un'osservazione. Se pensate alla retroilluminazione, come avete visto, nel negozio, vediamo se riesco a ritrovarlo, nel negozio in cui c'era la retroilluminazione colorata grazie ai pannelli LED, e vedo anche, torniamo a questo esempio, quello del bar, del locale retroilluminato con questi pannelli. Se voi pensate ad ottenere, a quanto ci costerebbe ottenere lo stesso effetto con le soluzioni tradizionali e ai costi necessari nel caso di interventi di manutenzione per il ricambio lampada, da smontare i pannelli, accesso, creare delle vie di accesso per fare manutenzione, eccetera, eccetera, e andate a confrontare l'investimento iniziale con le tecnologie LED, che sono chiuse, nel senso che i tempi di durata sono così elevati che non è necessaria manutenzione, possiamo semplificare anche dal punto di vista architettonico, strutturale l'impianto, vi accorgerete che non stiamo parlando di costi superiori, anzi in molti casi la soluzione a LED diventa più conveniente. È chiaro che bisogna far emergere questi costi nascosti che normalmente non siamo abituati ad affrontare. Noi ci confrontiamo con i costi del corpo illuminante e pensiamo di andare a una soluzione LED verso corpo illuminante, senza considerare tutti questi costi nascosti. Vediamo se ci sono altre domande. No, non ci sono altre domande. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ribadisco che sul sito potete trovare anche il calendario dei prossimi webinar, vi chiedo ancora a cortesia di rispondere al questionario per l'attenzione e alla prossima. Grazie.